Questo è l'archivio interattivo delle conversazioni che avvengono su Twitter con l'utilizzo dell'hashtag MT2019. Ogni nodo rappresenta un utente, un utente che almeno una volta ha condiviso un tweet con MT2019. Cliccando su ognuno dei nodi possiamo vedere la situazione riassuntiva di quell'utente e quindi possiamo leggere tutti i tweet, tutte le risposte e tutte le menzioni che quell'utente ha condiviso con l'hashtag MT2019. Cliccando su Ripley Tweet invece possiamo vedere in modalità accelerata la storia di tutte le conversazioni di quell'utente con gli altri utenti avvenute nel corso del tempo. Sulla destra, man mano che scorrono, possiamo leggerne i relativi tweet. Come potete vedere cresciamo ogni giorno e l'unica regola è Keep Calm in tweet MT2019. He review And Genau Come potete vedere Come potete vedere